Buon pomeriggio dallo stadio Mirko Achedoni di Fabriano dove sta per avere inizio l'incontro fra l'ASD Fabriano Cerreto e l'Urbania Calcio. Sale anche Temellini che viene preso dall'ISPI proprio nell'area piccola, il centrale difensivo dell'Urbania ed è lui che devia la palla in porta. Ha ecceduto forse nelle proteste e questo ha indispettito un po' il signor Pazzarelli, diciamo Montagnoli ha forse esagerato. Attenzione, c'è il palo e poi Sacchi che prova il tapin ma è bravo Santini ad accartocciarsi sulla palla. Urbania ancora in avanti, pallone imbucato per Fraternali, buona la palla, Sacchi! E c'è il raddoppio dell'Urbania, e c'è il raddoppio dell'Urbania al 27esimo. Ancora il Fabriano che può operare un cross verso il centro, pallone che giunge su Montagnoli, Montagnoli in area, pericolo, bello, molto bella la conclusione di Montagnoli al minuto 37. E ancora una volta a buon gioco il dispositivo difensivo dei Biancorossi, Sacchi sulla destra, ottimo il cross, aggancia Fraternali, arriva Giovannelli e praticamente sfiora il 3 a 0. Abbiamo visto diverse opportunità per il Fabriano. Attenzione, errore adesso in disimpegno dell'Urbania, c'è Cavaliere che non sa che fare, poi prova la conclusione. Ci sono 5 calciatori del Fabriano in area, c'è anche l'ISPI. E' il gol, gol del Fabriano che riapre la partita con il colpo di testa di Stortini. Il signor Pazzarelli che manda le squadre negli spogliatoi per l'intervallo. Nel nostro d'Aquino sono più numerose invece le occasioni da rete dell'Urbania. Calcio di punizione, va Montagnoli e si oppone Stafoggia. Pallone giocato ancora per Moretti. Moretti da quando è entrato si è messo in luce e infatti ha adesso ancora una sua buona iniziativa. A destra Moretti ha sfondato già più volte. C'è il cross di Bartolini, poi Santini che rimette il pallone in mezzo. E' il colpo di testa di Cavaliere. Montagnoli, estremo settore di sinistra, sterzata di Montagnoli. E tiro ancora del numero 10 che si vede respingere di nuovo. Ancora Bartolini, ottimo il cross di Bartolini. E il Fabriano Cerreto. Manca un'ottima occasione. Sacchi indietro. Labate scambia con un compagno sulla linea mediana del campo. Barca adesso la linea di centrocampo. Poi serve con un lungo lancio il numero 19 Cantucci. E bravo adesso Lucciarini che si libera con eleganza in mezzo all'area e va a trafiggere Stafoggia. C'è stato un minuto supplementare concesso dall'arbitro che credo stia per comandare la fine delle ostilità. Così è e l'Urbania può festeggiare.